Buongiorno, sono Luca Spallarossa, rappresento l'associazione delle spedizioni di Genova, Spediporto, e la sua società di formazione che si chiama Spediforma. Spediporto rappresenta la totalità delle imprese di spedizioni sul territorio genovese, quindi quasi 500 aziende con 6.000 addetti e la funzione dello spedizioniere è quella di portare le merci, anche nel loro percorso internazionale, dall'origine al destino. Quindi noi siamo un'associazione che rappresenta società che vendono dei servizi, creano e vendono dei servizi, perché la merce possa avere lo sbocco sui mercati di destinazione a livello nazionale, ma specialmente a livello internazionale. Con la nostra società di formazione Spediforma abbiamo l'obiettivo di creare delle competenze specifiche per questo settore, perché il settore, come altri peraltro, in questo momento storico ha tantissima carenza di addetti specializzati. Quindi noi offriamo ai giovani che volessero affacciarsi a questa tipologia di professione la possibilità di poter operare nel mondo, quindi offrire alle merci il loro sbocco sui mercati di destinazione. Per fare questo si richiede ovviamente una formazione di hard e soft skills che è molto trasversale. Quindi io devo sapere, in primis ovviamente le lingue straniere, non solo magari l'inglese ma anche qualche altra lingua. E poi devo avere delle specializzazioni, una specializzazione un po' olistica, nel senso che devo sapere come muove il mondo e come muoverà il mondo. Quindi avere delle nozioni di macroeconomia, di geopolitica e poi specialmente andare proprio nel tecnico, sapere come muovono le merci, quindi competenze di carattere operativo, marittimo, terrestre, aereo, competenze di carattere doganale, assicurativo. E quindi riuscire a muovermi in questo mondo globalizzato dove io con i miei servizi riuscirò proprio a produrre questo interscambio a beneficio poi dell'umanità. Il lavoro è molto bello, è molto vario e quindi diciamo in questo settore le occasioni di poter farsi formarsi una professione sono veramente molto interessanti. Grazie.